Ragazzi, quando balbettavo, e io balbettavo veramente parecchio, prima di un colloquio di lavoro mi ponevo sempre questa domanda, ma dove voglio andare? Ma con questi blocchi che ho dove voglio andare? Questi sicuro non mi assumono. Infatti puntualmente andava molto male. E la cosa che più mi faceva star male era il fatto che a causa della disfluenza che era molto molto palese, era come se la balbuzie dava un'immagine di me che non mi rappresentava affatto. Io sentivo di essere molto preparato, sapevo molto bene le risposte che volevo dare quando mi facevo nel colloquio, eppure sembrava che io non fossi preparato per nulla, o magari le persone pensavano che fossi semplicemente timido, che non potevo ricoprire quella carica, quella posizione per la quale mi candidavo. E questa cosa mi dava un fastidio enorme. A voi anche capitava questa cosa? Rispondete nel sondaggio oppure nel commento qua sotto. Sfruttare le vacanze estive per riprendere in mano la vostra comunicazione è troppo importante. Immaginate di arrivare a settembre dove finalmente date un'immagine diversa di voi. A scuola non vi bloccate più come prima, immaginate che faccia possono fare i vostri compagni di classe. All'università finalmente riuscite a fare quegli esami senza quella balbuzia mentale che vi fa pensare giorni prima, caspita chissà se riuscirò a superare l'esame. Immaginate di fare un esame senza quel mal di pancia che vi blocca l'aria, senza quella apnea, senza i blocchi fortissimi che purtroppo vi fanno guardare dal professore in un certo modo e magari il professore vi guarda con quegli occhi pieni di pietismo e compassione. Immaginate di poter parlare in maniera fluente proprio come sto parlando io e proprio come parlano tutti quanti gli altri allievi del percorso di libera le tue parole. Ad esempio guardate l'intervista fatta a Chiara Balestri, cliccate qua sotto. Purtroppo la balbuzia, soprattutto in Italia, è un problema che è conosciuto molto poco. C'è una grandissima ignoranza in questa tematica. Infatti la stragrande maggioranza delle persone pensa che chi balbetta è solamente chi ha dei blocchi molto forti, chi fa fi 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 ta 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 la la la. Ma questi tipi di blocchi in realtà sono molto rari. Perché? Perché la maggior parte delle persone che soffrono di balbuzi e sono molto in gamba anche a nascondere i propri blocchi. E quindi mentre una persona per esempio quando parla fa sì allora mi candido per questa posizione. Se una persona parla in questo modo guardando ovviamente in basso cosa succede? Beh succede che la persona che lo sta esaminando non per forza ritiene che quello sia balbuziente. Perché magari può pensare a questa persona è timida, non fa per noi o magari è semplicemente impreparata. Quindi non tutte quante le persone che stanno svolgendo quell'esame, quel colloquio, riescono a percepire che davanti a loro hanno un balbuziente. Uno perché i balbuzienti con dei blocchi mo 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 molto forti, tipo questo, o che allungano, tipo in questo modo qua. In realtà sono rari, non sono moltissime queste persone qua. La maggior parte delle persone che soffrono di balbuzie sono bravissime a nascondere i blocchi e quindi utilizzano tutti quegli, come si chiamano, tutti quelli, dai sì non mi viene la parola, come si chiama? Quei trucchetti come ho usato adesso. Qui è scamotaggio, fanno finta di non trovare la parola, fanno finta di non ricordarla, quindi lasciano che sia l'altro ad anticipare la parola. Se io faccio un esame universitario, un'interrogazione a scuola o un colloquio di lavoro e l'altro mi deve anticipare le parole, beh, sicuramente non sembrerò preparato. Purtroppo la balbuzia è da una vera e propria immagine di noi che non è quella che ci rappresenta, perché ci fa indossare una maschera e questa maschera recita un personaggio, il personaggio del timido, il personaggio del tipo impacciato, il personaggio della persona impreparata, che era la cosa più odiosa, anche perché io studiavo tanto, mi faceva studiare sia a scuola sia all'università e quando andavo a fare un colloquio di lavoro ero preparatissimo e non riuscivo a dimostrare la mia preparazione e c'erano delle persone che magari bastava che riuscivano a parlare un po' meglio di me e davano un'immagine di quelli che erano più preparati, quando in realtà non lo erano. E quindi, ragazzi, immaginate un datore di lavoro a parità di voto universitario, magari di voto di diploma, quando devi assumere qualcuno. Chi è che assume? Beh, ovviamente la persona che ha la parlantina migliore, quelli che riescono a convincere. A me piace molto il termine convincere, perché spesso in Italia c'è sempre questa cosa, che convincere può sembrare una cosa brutta, in realtà è un bel termine. Convincere vuol dire con vincere, vincere con. Vinco io, vinci tu. Quando una persona riesce a convincere, vuol dire che ha fatto una cosa buona. Esempio, mettiamo che io sono veramente preparato per poter essere assunto da quell'azienda perché ho la preparazione corretta per poter dare un grande contributo a quell'imprenditore che ha bisogno di un lavoratore. Se io veramente riesco a dare un contributo, l'azienda cresce, in cambio io ricevo uno stipendio, quindi è un vinco io, ma anche vinci tu. È un vincere vincere, e che è la cosa più bella. Ecco perché convincere è un bellissimo termine, anche se ci vogliono convincere che in realtà chi convince fa delle cose brutte. Il problema è che con la balbuzie non si riesce a convincere, perché in realtà vincere è solamente la balbuzie. Ci schiaccia, ci fa interpretare un personaggio che non ci rappresenta. Il timido, l'impacciato, l'insicuro, quello che non ha studiato o peggio che non è preparato. Ci tengo molto a sottolineare questo punto perché è una cosa che mi faceva stare troppo ma troppo male. Ed è per questo motivo che è importantissimo eliminare la balbuzie. Tra poco, in vacanza, molte persone proveranno a dimenticarsi della balbuzie perché avranno fatto tutti gli esami universitari, perché avranno finito la scuola, o magari perché vanno in ferie dal lavoro. Ma la balbuzie non si dimenticherà di voi mai, e vi farà vivere anche in vacanza questa tortura. Infatti, la balbuzie non è che si prende il sabato sera libero, la domenica sera, Natale o le vacanze. A ferragosto si balbetta lo stesso. E ricordatevi, si balbetta anche se non ci si blocca, perché faccio sempre questa grande differenza. Ci si blocca perché abbiamo imparato a essere disfluenti. Si balbetta perché abbiamo imparato a ragionare da balbuziente. Il balbuziente vuole nascondere la propria disfluenza, perché la disfluenza si produce qua. La balbuzie si produce qua. Se ci sono domande, ovviamente, rispondete nei commenti o magari ci mandate un messaggio WhatsApp, chiamate il numero verde. Insomma, avete mille mila modi per poterci contattare, per poter comprendere bene questa differenza. Potete anche promotare uno dei nostri check-up, per parlare con uno dei nostri professionisti. Ma non è questo il punto principale, perché la cosa fondamentale ve la sto per dire adesso. Il periodo estivo è il periodo migliore dell'anno per testare che la balbuzia non va in vacanza, ma soprattutto per poter lavorare sulla propria comunicazione. Perché mai più di ora durante l'anno avete del tempo libero a disposizione che potete dedicare a voi stessi per poter finalmente iniziare a lavorare sulla vostra comunicazione. È troppo ma troppo importante questa cosa. Se volete arrivare a settembre che a scuola spaccate di brutto, se volete arrivare a settembre che gli esami universitari li fate alla grande, dovete usare adesso questo tempo che c'è ora. Luglio, agosto è questo il periodo migliore dell'anno. Se a settembre volete fare il colloquio di lavoro per la posizione lavorativa che tanto vi piace perché siete stanchi di fare il lavoro che non vi piace, ragazzi dovete usare l'estate per smettere di balbettare. Ma se avete finito la scuola o l'università e quindi il vostro problema è affrontare un colloquio di lavoro, immaginate finalmente di poter affrontare un colloquio di lavoro con la competenza corretta. Perché finalmente riuscite a dire tutto quanto quello che volete senza bloccarvi e riuscite a far capire al datore di lavoro che vi sta esaminando quanto valete, quanto siete preparati per poter ricoprire quella posizione. O magari se lavorate già immaginate finalmente di riuscire a dire tutto quanto quello che volete e finalmente dimostrare ai vostri colleghi o al vostro capo quanto valete. Che non siete quella persona impreparata, timida e impacciata che purtroppo la balbuzia dimostra. Insomma immaginate tutto quanto questo. Se volete arrivare a settembre che siete preparati dovete usare al meglio le vacanze estive ed è per questo che abbiamo pensato ad una promo per voi. Se prenotate il check up entro il 9 luglio 2023 avete la possibilità di poter permettere ad un professionista di libera le tue parole di studiare attentamente la vostra situazione di blocchi e di balbuzie e se il professionista si renderà conto che anche su di voi si può applicare l'innovativo protocollo antiblocco in tre step, avete la possibilità di frequentare la full immersion pagando due giorni su tre e non tre su tre. Questa offerta è veramente interessantissima perché nonostante c'è questo tipo di scontistica rimane invariata la garanzia di rimborso totale. Nel caso infatti durante la full immersion ci rendiamo conto che non riusciamo a farvi applicare il protocollo antiblocco otterrete il rimborso del 100% solamente che questa volta avrete pagato solamente due giorni su tre quindi avete ancora meno scuse. Insomma non vi costa assolutamente nullo perché se tutto va male c'è il rimborso ma se tutto va bene avete la possibilità di conquistarvi la vostra libertà. La libertà di poter esprimere finalmente voi stessi al 100% e di non dare più quell'immagine di voi che non vi rappresenta, della persona timida, della persona impacciata, della persona impreparata. Perché io lo so che voi siete preparati, che siete bravi, perché io lo sapevo. Io quando mi presentavo a un colloquio di lavoro io sapevo di valere ma purtroppo non davo quell'immagine di me. Io sapevo che non ero timido, io sapevo di non essere impacciato ma purtroppo la balbuzia davo l'immagine di me che non mi rappresentava affatto. Quindi fatevi questo enorme regalo estivo. Cliccate qua sotto, prenotate il check up gratuito, uno dei nostri professionisti studierà attentamente la vostra situazione di balbuzia e di disfluenza, valuterà se è possibile applicare il protocollo antiblocco e nel caso fosse possibile facciamo la full immersion scontata dove pagate solo due giorni su tre. Se tutto va male, rimborso del 100%. Se tutto va bene, godetevi la libertà.